20 maggio, venerdì con l'almanacco, con l'oroscopo del giorno, ben trovati, oggi è San Bernardino da Siena, si festeggia la giornata mondiale delle api. L'almanacco ci ricorda che oggi nel 58 in Italia entrava in vigore la famosa legge Merlin con cui si decretava la chiusura delle case di tolleranza. Compleanni, auguri a Diego Abatto Antuono, nato oggi nel 55, anche Albano Carrisi è nato il 20 di maggio nel 1943 e poi l'attrice Maria Chiara Giannetta nata nel 1992. Sta per iniziare l'oroscopo, come sempre, dall'Ariete ai Pesci. Ariete, alimentate i pensieri positivi, avrete così la giusta carica di ottimismo per riuscire ad affrontare circostanze nuove senza riserve mentali. Belle aperture per la vita sentimentale, in famiglia confidatevi e sarete capiti. Toro, difendete il vostro pensiero con molta fermezza. Nel lavoro riuscirete a rientrare in gioco da protagonisti. Non lasciate dei sospesi con la persona amata. Un dialogo aperto rilancia l'intesa. Incassi in arrivo. Gemelli, giornata decisamente molto favorevole e quindi ottime chance in tutti i campi per voi. Aumenta la fiducia in voi stessi, grazie anche a gratificazioni e successi. Difendete gli spazi del cuore e non razionalizzate troppo i sentimenti. Cancro, salvaguardate i vostri spazi personali e tenetevi alla larga dagli invadenti. Stasera i sentimenti hanno delle ottime possibilità per potersi espandere. Necessità di uscire dai soliti binari per assaporare gusti nuovi. Attenzione a non perdere troppo il contatto con la realtà. Leone, belle soddisfazioni nel campo delle amicizie. Le vostre aspettative trovano conferma. Accettate un invito promettente per il futuro. Sviluppi in vista per il lavoro. Per il momento lasciate che siano gli altri a fare la prima mossa. Vergine, molte emozioni che possono diminuire la resa intellettuale. Un po' di relax ve gioverebbe. Un chiarimento salutare con la persona amata lo avrete questa sera. Situazione economica da tenere sempre sotto controllo. Buone notizie le riceverete per posta oppure al telefono. Bilancia. Oggi vi sentirete proiettati in avanti. Potrete espandervi, guardare lontano. Stimolate i viaggi e i rapporti con l'estero. Date respiro ad un rapporto amoroso che ha bisogno di alleggerirsi per prendere il volo. Scorpione. Siate realisti nei rapporti con il mondo esterno. Riuscirete a prendere in contropiede qualcuno che cerca di mettervi in difficoltà. Non abusate delle vostre forze e createvi invece momenti di relax in serata per poter riprendere e riconquistare la vostra forma. Sagittario. È il giorno adatto per programmare, ma non abbiate fretta di passare all'azione. C'è tempo. Difendete con determinazione i vostri spazi personali. Attenti a non lasciarvi soffocare da eccessive pretese. Apritevi con chi è in sintonia con voi. Capricorno. Ridimensionate una divergenza di idee che provoca qualche tensione in famiglia. In amore, siate fino in fondo sinceri con voi stessi e rinunciate ad un compromesso. Nuove conoscenze sono da coltivare. Accettate e ricambiate gli inviti per questa sera. Acquario. I favori dei pianeti vi aiutano ad agire senza riserve. Ottima capacità di recupero e straordinario magnetismo che vi regala belle conquiste. Creatività. In amore è il giorno decisivo per chi aspetta l'incontro giusto. Non fatevelo scappare. Pesci. Bisogno di autonomia ed ottime energie per reagire contro limitazioni che vi tolgono spazio. Un po' di autoanalisi servirà a farvi trovare le giuste motivazioni per dare battaglia. In amore sappiate anche voltare pagina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.